ciao a tutti mi chiamo gilberto allora sono qui con maria delle media e questo per poter dare una testimonianza diciamo così della mia esperienza con le media noi siamo partiti con un condominio con otto appartamenti e sono stati praticamente investimenti che hanno fatto i miei genitori in età giovanile chiaramente col passato il tempo questa gestione è diventata un po difficile un difficoltosa e quindi abbiamo deciso di renderli e abbiamo contattato altre agenzie purtroppo non sono state esperienze molto positive e quindi onestamente quando abbiamo contattato la media eravamo un po prevenuti quindi anziché dare un contratto in esclusiva abbiamo scelto concordando con loro di dare un appartamento alla volta sempre in esclusiva sempre in esclusiva il problema è stato che chiaramente era diciamo brutto contattare una persona e dirgli subito non mi fido però effettivamente devo dire che con loro passando il tempo vendendo appartamento a suo appartamento in tempi veramente molto brevi e seguendo proprio le nostre indicazioni cosa che le altre agenzie non hanno fatto hanno saputo guadagnare davvero una grandissima fiducia una grandissima stima e siamo davvero molto molto riconoscente per il lavoro che hanno fatto noi lo consigliamo non consigliamo mi dispiace aver finito di venderli perché avremmo venduto ancora se avessimo avuto altri avremmo venduti con loro perché sono al di là delle persone da una grande professionalità sono persone da un punto di vista umano davvero molto molto preziosi e quindi sono persone che sono difficili da trovare è difficile trovare oggigiorno persone così molto proprio professionali proprio dedicate al lavoro dedicata la loro professione lo fanno davvero con una grandissima passione che la trasmettono ti danno tanta fiducia ti danno tanta sicurezza e ti danno tanto supporto non è una cosa scontata non è una cosa che danno tutti e noi per questo motivo siamo davvero davvero contenti guarda quasi ci dispiace non vederli stesso come facevamo prima spero che resti comunque è una bella amicizia sicuramente grazie grazie Giulia grazie